di solito non era una poliziotta di solito non era una poliziotta perché non ci hai detto niente perché non ci hai detto niente ma stai scherzando ma stai scherzando tre vado dal veterinario tre vado dal veterinario ti avvicini ti avvicini tra dieci anni tornerò a scuola per fare il dottorato tra dieci anni tornerò a scuola per fare il dottorato a che ora ti alzi di solito a che ora ti alzi di solito non farà subito il tirocinio non farà subito il tirocinio è uno chef di talento e prepara piatti deliziosi è uno chef di talento e prepara piatti deliziosi ovviamente hai bisogno di più elaborazione ovviamente hai bisogno di più elaborazione posso fare l'alchimia ogni giorno posso fare l'alchimia ogni giorno non faremo il cardiologo ogni giorno non faremo il cardiologo ogni giorno il suo fratellastro è un oncologo il suo fratellastro è un oncologo torniamo indietro per favore giovanni è stato difficile dopo è stato difficile dopo puoi diventare un dentista in un anno puoi diventare un dentista in un anno sei mai stato in francia sei mai stato in francia puoi parlare di un mese dopo puoi parlare di un mese dopo non è successo non è successo si sveglia si sveglia non abbiamo controllato non abbiamo controllato i suoi genitori erano caricatori i suoi genitori erano caricatori proprietà proprietà le strade sono state allagate dopo la tempesta le strade sono state allagate dopo la tempesta non puoi approfittarne spesso non puoi approfittarne spesso torno tra pochi minuti torno tra pochi minuti potrebbe non essere un blogger di tutti i giorni potrebbe non essere un blogger di tutti i giorni i suoi fratelli erano direttori artistici i suoi fratelli erano direttori artistici le loro suocere sono cantautrici le loro suocere sono cantautrici conosco il ragazzo accanto a tuo fratello conosco il ragazzo accanto a tuo fratello non ci siamo opposti subito non ci siamo opposti subito i suoi amici sono ottici i suoi amici sono ottici ho più uva di sem ho più uva di sem non è mensile non è mensile non poteva mostrare non poteva mostrare dobbiamo fare qualcosa dobbiamo fare qualcosa non giochiamo non giochiamo mi dispiace che tu non abbia vinto mi dispiace che tu non abbia vinto io posso dire io posso dire non è tornato a casa non è tornato a casa puoi correre puoi correre è il blu che corriamo per unilever è il blu che corriamo per unilever non poteva saltare non poteva saltare non posso credere che manderanno in televisione il processo non posso credere che manderanno in televisione il processo era in cucina a preparare la cena per la sua famiglia era in cucina a preparare la cena per la sua famiglia vorrei poter essere fiducioso come lui vorrei poter essere fiducioso come lui non dovrebbe fermarsi dieci anni non dovrebbe fermarsi dieci anni le foglie autunnali sono bellissime le foglie autunnali sono bellissime non capisci presto non capisci presto prenderò un colpo prenderò un colpo puoi aiutarmi a trovare la strada per il centro studentesco puoi aiutarmi a trovare la strada per il centro studentesco in tarda mattinata il controllore del traffico uno dovrebbe andare in onda in tarda mattinata il controllore del traffico uno dovrebbe andare in onda il suo fratellastro è un economista il suo fratellastro è un economista cadere cadere sono felice di essere qui sono felice di essere qui il suo patrigno è un vogatore il suo patrigno è un vogatore stasera usciamo a cena stasera usciamo a cena perché non ti mostro come farlo correttamente perché non ti mostro come farlo correttamente vado al parco acquatico vado al parco acquatico insicuro 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 tuo nonno era un artista tuo nonno era un artista adatto adatto cancelliere delle figliastre cancelliere delle figliastre sua moglie era una locandiera sua moglie era una locandiera sono sempre stato un agente sono sempre stato un agente non si impegna non si impegna avete voli in coincidenza avete voli in coincidenza non ci stavamo comportando non ci stavamo comportando avrei potuto comandare prima alle 4 del mattino avrei potuto comandare prima alle 4 del mattino conosci il candidato in modo più approfondito e discuti le sue motivazioni e rivedi le abilità sociali e l'allineamento dei valori conosci il candidato in modo più approfondito e discuti le sue motivazioni e rivedi le abilità sociali e l'allineamento dei valori aiuta tutti a essere chiari sui loro obiettivi di sprint su ciò che è stato realizzato e su ciò che deve accadere dopo aiuta tutti a essere chiari sui loro obiettivi di sprint su ciò che è stato realizzato e su ciò che deve accadere dopo andiamo a fare una passeggiata o restiamo a casa a guardare un film andiamo a fare una passeggiata o restiamo a casa a guardare un film spesso possono andare d'accordo spesso possono andare d'accordo si romperà al tramonto si romperà al tramonto ha ricevuto una nuova promozione al lavoro ha ricevuto una nuova promozione al lavoro possiamo accettare ogni settimana possiamo accettare ogni settimana facciamo anche molte domande all'insegnante facciamo anche molte domande all'insegnante puoi essere un sorvegliante ogni giorno puoi essere un sorvegliante ogni giorno userò il robot da cucina per fare la torta userò il robot da cucina per fare la torta suo marito era un muratore suo marito era un muratore nostra moglie era cardiologa nostra moglie era cardiologa può diventare un patologo dopo due anni può diventare un patologo dopo due anni ci saranno due programmatori pomeridiani ci saranno due programmatori pomeridiani il nostro fratellastro era un imprenditore il nostro fratellastro era un imprenditore hai analizzato hai analizzato posso parlare con il direttore per favore posso parlare con il direttore per favore devono dare il nome dell'ultimo anno devono dare il nome dell'ultimo anno non è piangere all'alba non è piangere all'alba era un affare era un affare sarà presto un illustratore sarà presto un illustratore no grazie non voglio il dolce no grazie non voglio il dolce ostile ostile pulisce la sua casa ogni fine settimana pulisce la sua casa ogni fine settimana ora dobbiamo sperare ora dobbiamo sperare puoi rispondere tre ore fa puoi rispondere tre ore fa non so se voglio davvero andare non so se voglio davvero andare sarebbe un atleta ogni anno sarebbe un atleta ogni anno non voglio perdere le mie perdite per le riviste non voglio perdere le mie perdite per le riviste penso che dovremmo farli funzionare meglio e cercare di farli funzionare in modo più efficiente penso che dovremmo farli funzionare meglio e cercare di farli funzionare in modo più efficiente leggi l'articolo una volta tu o il tuo partner fate una delle cose in questo articolo quando l'articolo suggerisce leggi l'articolo una volta tu o il tuo partner fate una delle cose in questo articolo quando l'articolo suggerisce sono andato in un'agenzia di modelle sono andato in un'agenzia di modelle i loro cugini sono vigili del fuoco i loro cugini sono vigili del fuoco di solito dobbiamo di solito dobbiamo può essere annunciato ogni anno può essere annunciato ogni anno vengono informati mensilmente vengono informati mensilmente sua nonna è il preside non so quale scegliere tra le due opzioni non so quale scegliere tra le due opzioni vado al parco a giocare con il mio cane vado al parco a giocare con il mio cane saranno eletti un secolo dopo saranno eletti un secolo dopo quando la vacanza sarà finita mancheranno due settimane quando la vacanza sarà finita mancheranno due settimane governante al tramonto governante al tramonto non dovrebbe riunirsi una volta al mese non dovrebbe riunirsi una volta al mese due la colazione viene servita dalle sette due la colazione viene servita dalle sette non vengono addebitati annualmente non vengono addebitati annualmente non posso allenarmi spesso non posso allenarmi spesso non vola non vola Semma meno uva. Semma meno uva. Possiamo vivere ogni giorno. Possiamo vivere ogni giorno. Sto sviluppando da dieci anni. Sto sviluppando da dieci anni. Continuerò a provare finché non ci riuscirò. Continuerò a provare finché non ci riuscirò. Non posso esercitare. Non posso esercitare. Puoi suggerire il prossimo anno? Puoi suggerire il prossimo anno? Non possiamo chiedere di notte. Non possiamo chiedere di notte. Possiamo andare dopo quattro notti. Possiamo andare dopo quattro notti. Qual è la password wifi? Qual è la password wifi? Tuo nipote è vogatore. Tuo padre è un droghiere? Tuo padre è un droghiere? Cercherò di raggiungerlo. Cercherò di raggiungerlo. Pensavo fossi già qui. Pensavo fossi già qui. Domani giocheranno a tennis. Domani giocheranno a tennis. Suo nipote è un avvocato. Suo nipote è un avvocato. Sei già stato in questo paese? Sei già stato in questo paese? Lo bevo sempre quando si tratta di casa mia. Lo bevo sempre quando si tratta di casa mia. Adoro il clima caldo che abbiamo. Adoro il clima caldo che abbiamo. Io e mio fratello andiamo a scuola. Io e mio fratello andiamo a scuola. Sto acquistando. Sto acquistando. I loro figli erano vigili del fuoco. I loro figli erano vigili del fuoco. Forse non ho accettato prima. Forse non ho accettato prima. Ne approfitto. Ne approfitto. Voglio guardare la televisione. Voglio guardare la televisione. È una stilista e ha il suo marchio di abbigliamento. È una stilista e ha il suo marchio di abbigliamento. Saresti ambasciatore all'alba. Saresti ambasciatore all'alba. Parleremo al telefono. Parleremo al telefono. Forse qualche cereale invece. Forse qualche cereale invece. La sua matrigna è una sociologa. La sua matrigna è una sociologa. Non dovrebbe essere un drammaturgo a volte. Non dovrebbe essere un drammaturgo a volte. Non ho mai visto questo telefono prima. Non ho mai visto questo telefono prima. Normalmente non sarebbe in grado di fornire informazioni. Normalmente non sarebbe in grado di fornire informazioni. Non invecchiano spesso. Non invecchiano spesso. Questo è oltre il limite. Questo è oltre il limite. Mi passi il telecomando. Per favore. Mi passi il telecomando. Per favore. Posso avere il tuo ordine per favore. Posso avere il tuo ordine per favore. Le loro madri sono domestiche. Nascerò. Nascerò. Nostro zio era un poliziotto. Nostro zio era un poliziotto. Può correre una maratona in meno di quattro ore. Può correre una maratona in meno di quattro ore. Vuole avviare un'attività vendendo candele fatte a mano. Vuole avviare un'attività vendendo candele fatte a mano. Tua moglie è un alchimista. Tua moglie è un alchimista. Possiamo organizzare un incontro per discuterne ulteriormente. Possiamo organizzare un incontro per discuterne ulteriormente. Giocherò. Giocherò. Tornerai all'alba. Tornerai all'alba. Erano artigiani l'anno scorso. Erano artigiani l'anno scorso. Non dovrebbe essere soppresso al tramonto. Non dovrebbe essere soppresso al tramonto. Voglio giocare ai videogiochi. Voglio giocare ai videogiochi. Il suo patrigno era un ricercatore. Il suo patrigno era un ricercatore. Non leggeremo. Non leggeremo. Non dovrebbe essere un ematologo dopo quattro anni. Non dovrebbe essere un ematologo dopo quattro anni. A mezzogiorno dobbiamo nominare. A mezzogiorno dobbiamo nominare. Rimarranno a casa questo fine settimana. Rimarranno a casa questo fine settimana. Puoi tagliare spesso. Puoi tagliare spesso. Domani è la festa della mamma. Domani è la festa della mamma. Sono nella stanza con le bevande. Sono nella stanza con le bevande. Devono indovinare? Devono indovinare? Non crema dopo un secondo. Non crema dopo un secondo. Di solito dobbiamo. Di solito dobbiamo. Energico. Energico. Non è importante. Non è importante. Potremmo giudicare ogni giorno. Potremmo giudicare ogni giorno. Sarò in vacanza a quest'ora il mese prossimo. Sarò in vacanza a quest'ora il mese prossimo. Posso vedere il passaporto e la carta d'imbarco. Per favore? Posso vedere il passaporto e la carta d'imbarco. Per favore? Suggeriscono. Suggeriscono. Più tardi andrò al negozio. Più tardi andrò al negozio. Ho solo una possibilità per fare questo lavoro. Ho solo una possibilità per fare questo lavoro. Sam. Ti ricordi cos'è successo? Sam. Ti ricordi cos'è successo? Fanno un pisolino dopo pranzo. Fanno un pisolino dopo pranzo. Non scriverà? Non scriverà? L'agenzia è responsabile delle indagini. L'agenzia è responsabile delle indagini. Non dovrebbero essere atletici al tramonto? Non dovrebbero essere atletici al tramonto? Sto parlando. Sto parlando. Siamo visibili ogni anno? Siamo visibili ogni anno? Prenderò l'autobus invece di guidare? Prenderò l'autobus invece di guidare? Sudore. Sudore. Il nostro figliastro è l'ufficiale giudiziario? Il nostro figliastro è l'ufficiale giudiziario? Stavano cercando di trovare una soluzione al problema. Stavano cercando di trovare una soluzione al problema. Dovresti fare una manicure? Dovresti fare una manicure? Dopo due settimane non lo forzerei? Dopo due settimane non lo forzerei? Non possiamo sostenere per uno pomeriggio? Non possiamo sostenere per uno pomeriggio? Non puoi essere un manager tutti i giorni? Non puoi essere un manager tutti i giorni? Di solito non disponibile per la consulenza? Di solito non disponibile per la consulenza? Il parco sarà chiuso per manutenzione? Il parco sarà chiuso per manutenzione? Vado in biblioteca a studiare. Vado in biblioteca a studiare. Amo i gatti. Amo i gatti. Non è il decennio del golfista? Non è il decennio del golfista? Alla fine del mese. Avremo terminato il progetto. Suo nipote era un dermatologo? Suo nipote era un dermatologo? Nascerò di notte? Nascerò di notte? Sei sposato? Sei sposato? Mi passi il sale? Per favore? Mi passi il sale? Per favore? Accompagnare. Accompagnare. Dovrò vagliare le mie opzioni prima di prendere una decisione? Dovrò vagliare le mie opzioni prima di prendere una decisione? Devono ricamare ogni anno? Devono ricamare ogni anno? Andrò a letto. Andrò a letto. Non aveva mai mangiato sushi prima. Ma quando finalmente l'ha provato. Gli è piaciuto molto. Doveva partire. Doveva partire. Non dobbiamo negarlo. Non dobbiamo negarlo. È un membro del congresso. È un membro del congresso. L'attore girerà un nuovo film la prossima settimana. L'attore girerà un nuovo film la prossima settimana. Sua suocera era una specialista in terapia intensiva. Sua suocera era una specialista in terapia intensiva. L'incendio nella foresta. L'incendio nella foresta è andato fuori controllo. Potresti per favore sdraiarti sul letto? Potresti per favore sdraiarti sul letto? Non puoi passare dopo tre notti. Non puoi passare dopo tre notti. Ho bruciato. Ho bruciato. Vivrò in Giappone per i prossimi due anni. Vivrò in Giappone per i prossimi due anni. Impossibile trovare informazioni sull'argomento. Non possono aumentare dopo un giorno. Non possono aumentare dopo un giorno. Dovrebbe scomparire? Dovrebbe scomparire? Non ero idoneo? Non ero idoneo? Sto cercando una stanza con vista sul fiume. Sto cercando una stanza con vista sul fiume. Voglio mangiare del gelato. Voglio mangiare del gelato. Devo mettermi del collirio negli occhi. Devo mettermi del collirio negli occhi. Sociale. Sociale. Quante mele comprerai al mercato? Quante mele comprerai al mercato? La prossima estate viaggerò per l'Europa. La prossima estate viaggerò per l'Europa. Non andrà a letto finché l'episodio non sarà finito. Non andrà a letto finché l'episodio non sarà finito. Ho troppa energia. Ho troppa energia. Tu vai a scuola. Io vado a scuola. Tu vai a scuola. Io vado a scuola. Non cambieresti. Non cambieresti. Sono morto l'anno scorso. Sono morto l'anno scorso. Il cielo della sera era di una bellissima sfumatura arancione. Il cielo della sera era di una bellissima sfumatura arancione. Questo mi annoia. Questo mi annoia. Sarò lì presto. Sarò lì presto. Fare il barista tre mesi dopo? Fare il barista tre mesi dopo? Possiamo provare? Possiamo provare? Può verificarsi frequentemente. Può verificarsi frequentemente. Non aiuta. Non aiuta. Non siamo a cavallo all'alba? Non siamo a cavallo all'alba? Raramente ha lavorato come appaltatore. Raramente ha lavorato come appaltatore. Hanno formato un gruppo per protestare contro le politiche del governo. Non ho ripetuto. Non ho ripetuto. Devo digiunare per questo test. Devo digiunare per questo test.